Musica Buongiorno, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la stampa Occhio ai giornali su Fano TV Naturalmente prima di sfogliarli però guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo mercoledì 3 giugno, Santi Carlo, Luanga e compagni martiri, il sole è sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.45 Previsioni del tempo, partiamo dalla nostra appostazione, vedete le temperature subito già alle 7.30 di mattina sono intorno ai 20 gradi quindi si prospetta una giornata molto calda e anche il cielo ripreso dalla webcam mostra appunto un cielo completamente privo di nubi, vediamo quindi cosa ci dicono gli amici della protezione civile che confermano con i loro dati questa prima impressione, vedete sole pieno su tutta la regione sereno o al poco più nuvoloso, precipitazioni assenti, soltanto sui rilievi un po' di nuvolosità vediamo la giornata di giovedì che praticamente è un copio in colla di quello che avviene oggi sereno, precipitazioni assenti, mare poco mosso, nessun fenomeno particolare vediamo la tendenza per i giorni successivi anche nella seconda parte della settimana continuerà ad esserci le condizioni di tempo stabile e soleggiato e quindi insomma andiamo verso una settimana di pieno sole d'altronde era stato annunciato l'arrivo di questa temperatura alta e di tempo molto soleggiato e molto bello allora partiamo dal resto del Carlino per quanto riguarda le pagine di Pesaro e il festival del riuso è ormai una consuetudine soprattutto nel periodo estivo questi mercatini che affollano i lungomari oppure i quartieri delle città il riuso è virale, sì perché non si butta niente e quindi tutti quanti cercano di rimettere in giro ciò che si aveva nei garage e nelle cantine due anni fa erano solo 40 tra venditori, professionisti e novizi adesso invece è diventato veramente un numero impressionante 320 bancarelle sono un grande risultato affari di famiglia, quello che non riusciamo a darevi oggi speriamo di venderlo su internet sono fioriti anche tanti portali internet che fanno della vendita online di ciò che si ha in casa un must, era partito negli anni 40-50 in America questo fenomeno chiamato garage sale dove davanti al garage appunto si metteva quello che si aveva il primo che passava se lo prendeva e aveva un ritorno il padrone di casa in termini economici in questo momento di crisi non è sicuramente una cosa da trascurare come possibilità per fare un po' di cassa vendiamo, cosa si vende? giochi, tutto quello che può essere, vedete c'è abbigliamento, bigiotteria e l'incasso lo usiamo per tappare i buchi che abbiamo a scuola bene, quindi se avete qualcosa da inutilizzato dentro il caso, dentro il garage potete sfruttare questa opportunità che vi dà il web o anche i mercatini multe per divieto di sosta, cambiamo argomento dalle gioie ai dolori miniera d'oro, stimato un incasso di 348 mila euro in appena due mesi per violazioni al codice della strada occhio affido perché i vigili hanno elevato sanzioni per circa 1000 euro a proprietari di cani vedete parabrezzi roventi, insomma in questa macchina c'è più di una multa e poi una cosa di grande importanza casa rifugio per donne violentate il comune si riaffida alla cooperativa labirinto l'amministrazione comunale si è candidata ad essere capofile regionale per questo tipo di accoglienza ancora dalle pagine del resto del carlino di Pesaro questura e polizia in lutto per la scomparsa di un dirigente storico amatissimo e che ha fatto tanto per la sicurezza della nostra società addio al poliziotto che usava il buonsenso si è spento a 64 anni Paolo Mataloni, lunga e prestigiosa carriera nella nostra questura e poi si riporta qui un episodio quella minaccia di Ligio che gli era rimasta impressa Ligio gli disse lei guida, stia attento ai camion insomma questa è una cosa che gli era rimasta impressa aveva tanti numeri per poter diventare questore ma voleva stare vicino alla sua famiglia valori importantissimi condoglianze anche da parte di tutti noi alla famiglia la festa della Repubblica ecco i 16 riconoscimenti con titolo di ufficiale e Cavalieri alza bandiera in piazza si è tenuto ieri poi la consegna di tutte le onoreficenze DJ scomparso sarà oggi l'ultimo saluto a Teo, mister Teo DJ le pagine del resto del carlino poi continua con quelle che riguardano Fano termi chiuse, un problema sanitario ora dove porto mia figlia? la protesta di una mamma lì si è curata bene ora le più vicine sono a Riccione il loro valore risorsa importante per la città da non farsi sfuggire hanno aiutato tanti bambini il Carnevale di Fano sfila all'Expo quindi è il giorno di Fano all'Expo di Milano oggi una spettacolare coreografia si esibisce sul Cardo e sul Decumano milanesi e anche noi avremo una finestra sull'Expo e sul Carnevale di Fano questo pomeriggio rimanete attenzionati su Fano TV perché vi daremo una finestra una finestra di diretta e poi avremo anche un servizio nel nostro telegiornale di questa sera alle 20.30 occhio alla notizia quindi se volete le immagini dell'Expo entreranno nelle vostre case grazie alla nostra troupe di Fano TV ancora dopo politica dopo l'elezione si sa si fanno un po' i conti resa dei conti forza Italia il jacuzzi della cucuzza colpa loro se il partito ora è sotto al 10% e quindi ora Cerioni, Bettini e Bungaro si dimettano per andare con spacca Forza Italia ha sacrificato l'unione con Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e Lega e questi sono i risultati ne ha per tutti Marina Cucuzza che la vedete nella fotografia con Elisabetta Foschi il messaggio lo manda anche a Mirko Carloni e gli dice il centro-destra c'è ed è forte e quando è unito vince ma lui è stato un distruttore Mirko Carloni che era candidato di Marche 2020 aria popolare è entrato in consiglio regionale per un soffio e lei dice ha avuto fortuna e poi io troppo longevo parla Minardi dice rimpasto di giunta chiedete al sindaco io troppo longevo dice i giovani hanno bisogno dei maturi questa intervista di Anna Marchetti al neo eletto consigliere regionale Claudio Minardi nelle pagine del resto del Carlino di Fano ancora problemi di viabilità e di traffico la zona è quella di Chiaruccia una zona di transizione però di grande intensità di traffico e allora fateci le strisce pedonali questo è l'appello del comitato dei residenti altrimenti in queste strade prima o poi ci scapperà la tragedia come ahimè è avvenuto anche purtroppo in altre zone della città di Fano dove la viabilità era un nodo importante richiesta dei residenti di Chiaruccia tre sono i punti critici che loro elencono come criticità e qui nella foto c'è appunto un luogo dove vedete purtroppo le strisce pedonali non sono più vedibili insomma sono quasi scompasse per il passare delle auto e poi la settimana agricola con Fanogeo e la festa della Mietitura è stato un successo da bissare l'unione fa la forza si sa e questo Tre D'Ugnon tra le due manifestazioni non ha fatto altro che catalizzare sempre di più l'attenzione dei cittadini insomma di quanti amano questo mondo così rurale a Greste di focalizzare l'attenzione sulle problematiche sui prodotti insomma quindi grande successo Facinito Park nel weekend c'è stata una festa molto molto bella con trattori anche d'epoca molto suggestivi molto belli ancora ancora la rassegna stampa continua con il messaggero di Pesaro anche qui grande evidenza l'Expo è il giorno del carnevale di Fano e quindi vedremo anche all'interno l'articolo e poi i primi nodi anche qui per Ceriscioli il neo governatore intenzionato a definire l'esecutivo entro la settimana prossima ma c'è un rebus macerata che deve essere risolto si prospetta una gara a due tra Comi e Marcolini questioni della politica invece il meteorologo che dice alvia l'estate mediterranea e ce ne siamo accorti dalle temperature e appunto i nodi della politica per Ceriscioli arriva il momento per fare giunta in regione in cassa però intanto gli auguri di Renzi e appunto c'è questo nodo macerata da risolvere però lui dice quello che aveva detto anche in campagna elettorale basta con la burocrazia farò una rivoluzione in tutto il palazzo e in tutti gli uffici quindi vedremo vedremo come si districherà a livello regionale l'ex sindaco di Pesaro ancora appunto dicevamo riflettori sull'expo di Milano per quanto riguarda il Carnevale cento figuranti animeranno Cardo e Decumano che sono le vie del Padiglione Italia lanciando caramelle coriandole cartoline un invito ai potenziali turisti una bella vetrina anche a livello internazionale per la città di Fano un piccolo oggetto per ricordare quello che è un plus del Carnevale in mostra alle eccellenze del territorio anche dal mobile al design all'agroalimentare fino anche alla moda e rimaniamo a Pesaro fango e burocrazia scatta la grande fuga si parla del porto per poter utilizzare la nuova d'Arsena serve il via libera del provveditorato di Firenze che però tarda ad arrivare intanto il comitato lancia l'allarme rischiamo di perdere fino a 60 imbarcazioni e quindi insomma problemi per il porto canale di Pesaro ma insomma anche a Fano non andiamo molto bene con il nostro porto vediamo quale sarà lo sviluppo futuro intanto l'estate è alle porte le spiagge incominciano ad animarsi spiagge all'esame turismo con un occhio alle emergenze quasi terminati i lavori a Sassonia per rimediare i danni del maltempo calano i fondi regionali e si attendono 3 milioni per le nuove scogliere ancora altra testata che è ultima che prendiamo in considerazione il Corriere Adriatico apriamo con la pagina di Pesaro che mette in testa il lutto della Polizia di Stato per la scomparsa di Paolo Mattaloni e poi anche qui un occhio al turismo il sole assicurato vale 30 mila euro fondi a disposizione di albergatori per promozione e marketing Oliva dice Fabrizio Oliva presidente degli albergatori un primo passo certo è che dire che ci sarà sempre il sole fa invogliare a venire a frequentare la nostra costa giunta per il dopo Biancani Stefano Falcioni in pole position perché il sindaco Ricci pensa anche a una ridistribuzione delle deleghe questo perché Biancani va in regione quindi insomma ci sono riassetti anche per alcuni consiglieri insomma o assessori che lasciano le giunte comunali per andare in regione quindi ci saranno degli assestamenti Fano per quanto riguarda il Corriere Adriatico a Milano spazio l'olio di cartoceto e al biologico finestra sulla città di Fano col diretti presenta anche la carne marchigiana e i colori naturali per vernici moda con scarti vegetali quindi una vetrina a tutto tondo a 360 gradi come si dice sulla città di Fano oggi all'Expo il Carnevale va alla conquista del mondo quindi giornata pesarese presso l'esposizione universale oggi previste tre sfilate con cento figuranti fanesi sempre nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico annuncio dell'assessore mascherina alla festa dei giochi animazione e allegria a luglio avremo l'area si parla dell'area dell'aeroporto del parco dell'aeroporto quindi sono annunciato entro luglio quest'area verde questo polmone verde nella zona dell'ex aeroporto adiacente a quella che è l'aeroporto nuovo acquisizione dell'ultima particella ha fatto sì che scattasse questo progetto così tanto voluto da molti ancora Marotta l'estate fa 90 parliamo di turismo naturalmente tanti gli eventi in calendario spazio anche agli appuntamenti di Mondolfo intanto buone notizie per gli abitanti di Barchi siamo un po' all'interno del nostro comprensorio infatti la pagina di Fano è Valcesano Barchi il bellissimo borgo 400 mila euro dallo sblocca Italia e così il comune potrà utilizzare queste risorse per ripristinare le strade e ridurre il rischio idrogeologico però insomma la viabilità ha dei nodi anche non solo nelle città ma anche fuori proteste a Santipoito a rischio isolamento perché la provinciale Mondaviese è un percorso di guerra quindi probabilmente si riferiscono alle alle buche e poi un dramma insomma che in una discoteca il Tris oggi l'addio a Nando Ciani che è ucciso da un infarto mentre era appunto nella sala da ballo ultima pagina quella di Senigallia che vi facciamo vedere del Corriere Adriatico perché anche qui c'è stata una riconferma di Mangialardi e quindi ripropone la giunta giunta a 6 quattro assessori del PD vedremo come la comporrà e poi insomma giornata di relax dopo insomma le tensioni del voto per per il riconfermato sindaco brindisi nel salotto di via Carducci e dice io ho sempre governato mettendoci la faccia ma non non ho mai nascosto le difficoltà e non ho mai fatto promesse che non potevo mantenere bene grazie per essere stati con noi occhio alla notizia questa sera alle 20 e 30 e poi naturalmente ancora la rassegna stampa domani mattina alle 7 e 30 ricordate oggi pomeriggio avremo una finestra in diretta sull'Expo bene grazie e buon proseguimento di mattinata a tutti voi a tutti i nostri a tutti i nostri